buona sera tutti quanti spero che mi sentiate bene controllo l'audio tutto dovrebbe essere a posto vi parlo da ginevra questa volta come sapete faccio avanti indietro tra ginevra e il ticino dove abbiamo la raffineria e quindi produciamo la maggior parte dei nostri prodotti a castel san pietro quindi non neanche troppo lontani da milano lasciamo di solito il primo minuto per permettere a tutti di connettersi buonasera buonasera a tutti e non esitate nel frattempo a scrivere già i vostri primi messaggi probabilmente stasera avremo qualcuno che viene dal video di surri quindi avuto il piacere di avere surri o accogliere surri raffineria qualche settimana fa il suo video è stato pubblicato settimana scorsa qualcosa come 400 mila visualizzazioni quindi ha avuto un bel impatto tra l'altro sono divertenti commenti hanno hanno anche si sono anche accorti che c'era una una musica in sottofondo alla raffineria cosa che io non mi ero per niente reso conto quando abbiamo anche rivisto il filmato buonasera buonasera quindi non esitate io sono qui sono qui per voi abbiamo come sempre 30 minuti quindi potete chiedere le vostre domande direttamente nei commenti e io cercherò di rispondere a tutto quello che mi è possibile poi se non mi è possibile ve lo dirò e andremo avanti quindi abbiamo già una prima domanda come faccio a sapere che i miei prodotti sono fisicamente nei cavò allora noi abbiamo due cavò principalmente ne abbiamo uno alla raffineria quindi dove dove produciamo i metalli preziosi in quanto gruppo mks pump in ticino e poi abbiamo una seconda parte dei nostri cavoi a zurigo dove abbiamo sia il porto franco che ci permette di vendere argento platino palladio senza iva e gestiamo anche tutta la parte logistica direttamente da zurigo allora tutti i nostri prodotti sono fuori dal nostro bilancio e abbiamo annualmente un audit un controllo dove vengono e controllano che effettivamente tutti i prodotti dei nostri clienti sono non solo fisicamente presenti ma sono anche fuori dei nostri bilanci quindi se voi chiedete al nostro customer service loro possono anche fornirvi delle attestazioni che confermono che effettivamente i prodotti che sono stati annunciati dei nostri clienti sono presenti nei cavò poi edward a volta accade che il lingotto da 50 grammi abbia un premio inferiore a quello a 100 grammi costo di lavorazione più basso allora il premio inferiore allora il premio che per chi non lo sa è la variazione di prezzo tra il prezzo dell'oro in quanto tale e il prezzo del mercato produrre un 50 grammi e un 100 grammi a livello di costo è più o meno simile quindi normalmente il 50 grammi in proporzione dovrebbe avere un premio leggermente più elevato che il 100 grammi poi succede che certa gente ci rivende i 50 grammi quindi noi ci permette di comprare dei 50 grammi diciamo a premio zero perché ricompriamo al prezzo di mercato e quindi può succedere che se qualcuno ci vende un grande quantitativo noi ridistribuiamo indirettamente parte di questo premio che abbiamo recuperato ai nostri utilizzatori e quindi che il prezzo dei 50 grammi sia leggermente inferiore a quello dei 100 grammi non è la cosa più standard però può succedere quindi se succede ben venga anzi vi permette di comprare i 50 grammi senza dovervi comprare il 100 e pagare anche di meno quindi sicuramente non siete voi che vi lamentate e noi se voi siete contenti lo siamo anche noi buonasera volevo chiedere se in futuro ci sarà la possibilità di acquistare anche come azienda oltre che da privati allora lo facciamo lo permettiamo già a certi clienti l'unica problematica è che quando noi accettiamo un'azienda dobbiamo fare la due diligence dell'azienda che è automaticamente un po più complicata perché dobbiamo capire chi sono i proprietari dell'azienda ogni tanto bisogna chiedere i bilanci le origini dei fondi dell'azienda che non è così semplice e straightforward come lo è per un privato a dipendenza delle somme è qualcosa che è possibile e ovviamente in futuro è qualcosa che vogliamo rendere un po più sistematico ma la problematica è veramente il costo del della verifica che è abbastanza importante quindi francesco non esitare a contattare il customer service e chiedergli il servizio clienti e chiedergli se vi è questa possibilità perché poi cerchiamo veramente di accontentare le diverse esigenze allora andrea le criptovalute sono un bene rifugio migliore dell'oro e oggi come oggi purtroppo è abbastanza un fatto che negli ultimi sei mesi le diverse criptovalute sono state un po maltrattate dai mercati non perché è uno scam e tutto andrà a zero ci saranno criptovalute che andranno a zero come magari qualcuno esperto avete visto terra l'uno terra luna dove il prezzo è andato da 80 miliardi a zero in qualche giorno secondo me tante rimarranno noi qui a gold avenue siamo molto affascinati da tutto quello che la blockchain e non escludiamo di essere coinvolti nella blockchain in un futuro prossimo e accetteremo sicuramente criptovalute come mezzo di pagamento perché diventa qualcosa di sempre più standardizzato adesso considerarle un rifugio non le considererei un rifugio perché onestamente se tu metti c'è troppa volatilità non è ancora stabile il prezzo non è stabile e diciamo un bene rifugio è qualcosa che ha una volatilità relativamente bassa e come l'oro la volatilità il prezzo sale e scende in modo poco marcato l'argento platinum palladio sono già meno dei beni rifugio perché la volatilità è più importante quindi non si può dire che una criptovaluta dove ha un prezzo che varia di 20 30 40 per cento in più e meno per mese o per anno possa oggi essere considerata un bene rifugio se un giorno qualsivoglia la criptovaluta bitcoin doge quella quel che vuoi ha un prezzo più stabile costante a quel momento lì potrà cominciare a diventare un bene rifugio quindi ogni cosa a suo tempo lasciamogli la possibilità di evolversi jacob complimenti per il video con sorry grazie ma non abbia fatto niente speciale è stato veramente simpatico accogliere surri dentro una persona in gamba gioviale ed è impressionante lui è in giro col suo iphone vlog e riprende tutto quello che c'è da riprendere molto simpatico gaetano dice che non lo saranno mai vedremo vedremo magari mai di nuovo io credo nella tecnologia sono sicuro che qualcosa di buono si se ne riuscirà a trarre e poi sicuramente a livello speculativo quella è un'altra storia perché di legnate ne hanno presi un po tutti ma è la stessa cosa vale per netflix tesla e tutte le attrazioni diciamo che i primi sei mesi dell'anno non sono stati molto eh investor friendly dobbiamo dire diventarci una parola rodica buonasera cosa si deve fare per diventare un consulente gold avenue allora oggi come oggi bisogna essere lavorare per gold avenue quindi essere direi nella parte customer service voi clienti in qualsiasi momento potete condividere un link di affiliazione quindi che trovate nel vostro nel vostro portafoglio gold avenue in modo che le persone che si iscrivono a gold avenue tramite il vostro link voi ricevete una commissione per diverso tempo avete tutti i dettagli sulla piattaforma quindi potete essere non consulenti diretti gold avenue ma fare gli ambasciatori gold avenue e trarne anche un discreto beneficio a dipendenza di quante persone riuscite a a convertire sulla piattaforma e poi nel futuro abbiamo anche una visione più community dove permetteremo anche a membri della dei nostri clienti di partecipare in in sessioni come questa o commentare in un blog abbiamo diverse idee che stiamo che stiamo elaborando molto bello video consiglio grazie luca buonasera buonasera digital poseidon sono un nuovo cliente del gold avenue benvenuto grazie grazie al consiglio del mio socio d'affari ma ringraziamo allora il suo socio d'affari e spero che si trovi bene qui qui da noi o che si o che ti trovi dipendenza se ci diamo del tuo del lei buonasera sono vostro cliente da poco mi fa piacere benvenuto anche a te jimmy lo farò una domanda se decidessi di vendere il mio oro in custodia voi mi verrà pagato il prezzo di mercato del momento della venta grazie sì esattamente quindi noi non prendiamo nessuna commissione sulla rivendita quindi in qualsiasi momento tu puoi vendere l'oro ricevi esattamente il prezzo di mercato e poi con un bonifico noi te lo rinviamo alla tua banca di destinazione che se è in italia c'è il sepa e quindi non vi è nessuna commissione sulla transazione perché ci permettiamo di comprare l'oro al prezzo di mercato siccome non avendo mai lasciato il nostro cavo noi sappiamo che è oro puro al cento per cento non è stato manipolato e quindi possiamo rivenderla a una terza persona senza dover poi pagare il costo di produzione quindi è lì che non andiamo a risparmiarci sul costo di produzione e non abbiamo nessuna verifica da fare perché è rimasto nel nostro ecosistema quindi svelato l'arcano perché possiamo permetterci questi prezzi molto competitivi quindi come faccio ad avere un codice promozionale è vero che non ne ho sulla mano sotto mano però diciamo diciamoci così la prossima volta del live cercherò di preparare un codice sconto così le persone partecipi e quindi quelle che fanno le domande potremo eh dargli una possibilità nelle non lo so diciamo ventiquattro ore qualcosa del genere di acquistare con una piccola riduzione dopo sapete benissimo che i margini i nostri margini nell'oro sono sono irrisori quindi anche se vi faccio uno sconto non sarà mai uno sconto veramente significativo però dai un piccolo sforzo potremo potremo farlo francesco buonasera esiste un prezzo per così dire abbordabile per chi vuole iniziare a investire in oro fisico allora il prezzo è in base al quantitativo d'oro quindi noi vendiamo dal grammo fino al chilo eh un grammo sono cinquanta euro eh ovviamente più compri un prodotto piccolo più i costi di produzione sul prodotto hanno un impatto importante quindi può essere un po' fastidioso quindi devi capire un po' se vai piuttosto sul grammo su 2.5 5 grammi 10 grammi 20 grammi quindi veramente accessibile a chiunque poi a dipendenza dei tuoi mezzi eh fai che se ogni tre mesi quattro mesi ti ti compri un grammino alla fine dell'anno avrai duecento euro in oro e quindi piano piano ti crea il tuo piccolo patrimonio la tua piccola riserva in oro fisico a dipendenza delle possibilità di ognuno eh stessa cosa puoi farlo col platino palladio e se non hai cinquanta euro hai anche la possibilità di comprarti un'oncia d'argento che siamo intorno ai venti venticinque euro quindi qualcosa anche di di molto più eccessive eh un paio di cocktail eh a fine serata io sto facendo un apprendistato in una banca svizzera i termini di lavoro in futuro potrebbe essere un termine di lavoro di lavoro in futuro potrebbe essere possibile eh allora noi siamo siamo sempre alla ricerca di di talenti di persone che ci permettono di evolvere eh da gold avenue se voi andate sulla piattaforma gold avenue sotto eh alla fine della pagina c'è eh un link dove abbiamo tutte le posizioni aperte per lavorare da gold avenue potete anche mettervi un alert quindi una una notifica in modo che ricevete l'informazione tutte le volte che annunciamo una nuova posizione e tra l'altro ci sono tutte le posizioni aperte anche a livello del gruppo come sapete noi siamo mkspam group che è un gruppo di quasi mille persone in giro per il mondo quindi sicuramente ci sono sempre opportunità interessanti per per le persone talentuose buonasera buonasera Emanuele ci sono visite alla fabbrica di gold avenue un negozio che puoi acquistare faccia faccia allora alla fabbrica che in sé la raffineria non permettiamo visite allora abbiamo invitato Surry che ha fatto questo video youtube dove presentiamo i diversi prodotti e i processi di produzione però a parte che ci sono i fornaci ci sono gli acidi ci sono i gas ci sono diversi elementi che possono anche essere pericolosi eh oggi come oggi non è aperta al pubblico e inoltre c'è anche tutto un livello di sicurezza perché spostiamo in grandi somme in termini di valore e quindi automaticamente ogni volta che c'è qualcuno che entra e che esce ci sono dei controlli molto molto certosini che vengono fatti e c'è tutto un processo per permettere l'entrata in raffineria noi per permettere per rispondere poi alla seconda domanda per permettere dei prezzi competitivi e quindi avere questa flessibilità che poi ne beneficia il cliente finale noi facciamo solo della vendita tramite la piattaforma vuol dire che ci permette per esempio di avere uno dei nostri responsabili del dipartimento Italia che è basato a a San Gallo eh e quindi può rispondere a tutti i clienti italiani senza dove per forza per forza essere faccia faccia cosa che che è piuttosto costosa e automaticamente questo costo qui dovrebbe essere poi riflesso su sui clienti che oggi come oggi cerchiamo sempre di di avere il miglior affare per per i soldi che che pensiamo investire eh ogni tanto vedete Gold Avenue che è il mio collega che risponde a delle domande in modo un po' più 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 quadrato eh Andrea prego Leo ogni quanto vengono riaggiornate le scorte vedo tanti articoli esauriti allora bisogna dire che siccome c'è tantissima domanda nel settore dei metalli preziosi fisici quindi veramente lingotti e monete la raffineria e anche i nostri fornitori di monete sono veramente un po' ehm tirati in termini di produzione e quindi cerchiamo di concentrarci sui prodotti che funzionano meglio eh su Gold Avenue ovvero sono tutti quelli che sono un po' standard quindi la Lady Fortuna i prodotti gli ingottini d'oro fuso l'argento un poco platino poco palladio tutti i prodotti che sono più da collezione purtroppo piano piano eh sono un po' vittime da di tutta la domanda sugli altri prodotti quindi eh succede che qualcuno rivenda uno di questi prodotti e quindi se tu hai messo un un allerta vieni informato che un prodotto è di nuovo disponibile eh purtroppo è una situazione che fintanto che a livello economico mondiale rimane tesa non riusciremo a concentrarci molto sui piccoli prodotti più da collezione che da investimento eh Enrico è possibile potre acquistare i prodotti con carta di credito senza commissioni allora purtroppo no molto semplicemente perché la carta di credito funziona grazie alle commissioni vuol dire che non è che le teniamo noi le commissioni la carta di credito quando la usate per comprare qualsiasi qualsiasi tipo di prodotto vi carica delle commissioni a colui che ha ricevuto i soldi siccome noi siamo in un business un'attività dove i nostri margini variano tra l'uno e il cinque per cento eh parlo dell'oro eh se noi dovessimo pagare due per cento alla carta di credito guadagniamo un per cento sull'oro e a voi non vi facciamo pagare nessuna commissione automaticamente eh ci ritroviamo con un'attività in perdita quindi il miglior consiglio che posso darvi è di caricare il conto goldave new pay fate un versamento il giorno prima normalmente in Europa in 24 massimo 48 ore dovreste avere il vostro saldo che è caricato e in seguito potete fare tutti gli acquisti che volete senza preoccuparvi di commissioni di limiti di sicurezza di codice tutte queste cose qui spero che sia chiaro eh prego rodica adesso sono scivolato eh c'è allora edward c'è un limite di tempo riguardo la goldave new pay per quanto tempo posso tenere fermi lì dei soldi eh allora vi è un limite di tremila eh euro eh più o meno sono tremila franchi ma siamo più o meno lì tremila tremila euro che quindi potete lasciare a tempo indeterminato ovviamente la goldave new pay è fatto per comprare e vendere dei prodotti non è un conto risparmio perché non siamo una banca potete depositare più di tremila euro ma normalmente massimo cinquanta giorni se per dopo cinquanta giorni i vostri soldi sono ancora lì sul goldave new pay noi ve li rimandiamo eh sul vostro conto personale è tutta una pratica abbastanza fastidiosa per noi gestione di queste di queste somme comunque importante quindi quello che vi consiglio è di utilizzare veramente il goldave new pay come modalità di pagamento per evitare le diverse commissioni senza lasciare grandi somme eh sul 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 goldave new pay perché di nuovo noi non essendo una banca dobbiamo affidarli a una banca e abbiamo un ora una terza parte che è coinvolta quindi eh non è la stessa cosa che nel loro sono fuori dai bilanci di chi di chiunque. Leo su eventuali profitti sulla vendita di oro la legislazione italiana prevede tassazione. Allora questa è una domanda molto tecnica sulla fiscalità italiana eh penso non so se il mio collega potrà mettere una risposta però il meglio è chiedere direttamente al nostro servizio clienti a dipendenza della 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 diversa della nazionalità perché appunto non so se sei in Svizzera o in Italia proprio in Svizzera non c'è il capital gain quindi il l'utile sul capitale non è tassato se non è in Roma di nuovo non sono italiano il in Italia vi è un capital gain quindi il plus valore viene tassato e siccome eh l'oro è comunque un attivo immagino che vi sia un una una tassazione sul plus valore che voi dovrete poi dichiarare però nel dubbio non esitate a inviare un mail o scrivere direttamente nel 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 chat sul sito perché sono sicuro che Lorenzo che la persona che si occupa per noi eh ha la risposta giusta. Eh per quanto riguarda il trasferimento di denaro dalla propria banca al deposito sarebbe possibile snellire e velocizzare la procedura. Allora noi siamo un po' eh dipendenti dalla dalla vostra banca per dire la verità dal momento che voi inviate i soldi in teoria in ventiquattro ore eh la somma dovrebbe essere arrivata su sui nostri conti quindi dal momento che arriva sui nostri conti noi giornalmente li aggiorniamo e creditiamo eh i montanti sui conti dei clienti quindi diciamo che la procedura prende ventiquattro massimo quarantotto ore a meno che lo fate durante il weekend durante il weekend chiaramente la banca di nuovo è chiusa e sono le banche che sono un po' la quell'aspetto che bloccano la la velocità di transazione se no se fosse per noi saremmo molto più rapidi quindi da quel punto di vista lì vedo poca eh poco margini di manovra per il momento. Eh allora Jimmy a me è un po' scettica sulla custodia verso il vostro cavo come posso tranquillizzarla ma guarda eh alla fine ognuno al deve fare la la propria scelta quindi l'importante è informarsi quindi chiedere le nostre certificazioni sapere che siamo un gruppo familiare quindi c'è una famiglia sessant'anni nel mercato eh che abbiamo tutte dei delle di nuovo delle certificazioni dei controlli dei documenti delle assicurazioni delle garanzie siamo mille persone in giro per il mondo siamo noi stessi quanto gruppo che certifichiamo anche la purezza dell'oro quindi non siamo la prima piccola entità svizzera che si è messa e ha creato qualcosa siamo uno dei leader mondiali e teniamo l'oro non solo per eh piccoli clienti ma anche per grandi istituzioni quindi sicuramente siamo qualcosa una grossa struttura rassicurante se lei non dovesse essere tranquilla niente la impedisce di spetti farsi spedire l'oro e riceverlo direttamente da lei ovviamente perde un po' quei benefici dello stoccaggio assicurato della rivendita eh senza senza commissione la liquidità dunque tutti quei valori aggiunti che noi cerchiamo di offrire in quanto in quanto con l'avenue ma di nuovo è può anche chiamare Lorenzo appunto nostro servizio clienti per farle tutte le domande che ha oggi la non non si sempre tranquilla poi di nuovo a ognuno a ognuno il suo apprezzamento eh Giacomo è un programma di riferimento penso che stai parlando di un programma di d'affiliazione o di referral eh l'ho detto prima quindi sul vostro conto clienti potete trovare un link che potete condividere ai vostri amici familiari eccetera in modo che se loro comprano voi ricevete una commissione eh sul loro acquisto che automaticamente potete sia utilizzare per comprare voi stessi altri metalli preziosi o anche ritirare e poi farne quel l'uso che poi ne preferite eh Fabio perché l'oro non decolla vista la situazione macroeconomica? Beh è una buona domanda diciamo che l'oro non decolla negli ultimi quattro anni ha comunque aumentato il cinquanta per cento del suo valore e per essere un asset non volatile molto stabile comunque un un grosso apprezzamento eh vi è anche tutto un aspetto dove vi è una domanda di oro fisico con tutto quello che è l'industria i gioielli di loro da investimento ma anche tanta domanda viene fatta tramite dei derivati degli etf che hanno ovviamente un rischio eh perché sono dei 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 come dire dei fondi speculativi dove non sempre vi è dell'oro correlato che assorbe un po' la richiesta dell'oro di nuovo vediamo come evolve il mondo oggi le persone o gli investitori credono ancora che la Fed quindi ehm riesca a mantenere un livello di inflazione decente che aumenterà i tassi di interesse ma non troppo quindi vi è ancora una fiducia nel sistema attuale se questa fiducia dovesse eh diventare sempre meno meno reale sicuramente l'oro potrebbe avere un prezzo che decolla ma di nuovo l'oro non è fatto per eh volare verso l'alto o volare come il basso verso il basso è un eh bene rifugio perché non è volatile quindi automaticamente se salisse troppo velocemente vorrebbe dire che potrebbe scendere anche molto velocemente e non so per chi di voi è segue un po' le le diverse borse il cotone e quindi che è un commodities ha perso in tre giorni trenta per cento eh qualcosa di abbastanza incredibile e si era apprezzato del del quaranta per cento negli ultimi sei mesi quindi automaticamente molto un ritorno molto importante ma anche un un rischio che rimane importante Emanuele prego mi fa sempre piacere Mario farete anche un'app per cellulare sì è qualcosa che è nei nostri piani eh diciamo che non è per subitissimo noi prevediamo diciamo tra i prossimi diciotto ventiquattro mesi di cominciare a a lavorare su un'app che permetterà in seguito di avere un gold avenue molto più accessibile noi per sapere la nostra priorità è sempre avere eh un sito molto sicuro stabile chiaro e ci siamo sempre concentrati sulla piattaforma online per evitare di diversificare o separare il nostro focus e quindi automaticamente ridurre un po' la 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 qualità e anche la sicurezza quindi stiamo cercando veramente di avanzare gradualmente per poi offrirvi anche un servizio che sia veramente completo e stiamo lavorando anche su altre funzioni come il family account che vi permetterà di gestire un portamonete per dei figli eh minorenni su un borrowing che vi permetterà di eh ricevere un prestito utilizzando dell'oro come controvalore su un repeat buy che vi permetterà di piazzare degli ordini ricorrenti automatici quindi tutte piccole cose che noi passo dopo passo stiamo sviluppando per voi in modo che avrete veramente un ecosistema eh a 360 gradi dove potrete sicurizzare una parte dei dei vostri risparmi eh i vostri prodotti sono certificati LBMA eh sì tutti i nostri lingotti il nostro oro è certificato LBMA che per chi non lo sa è lo standard che eh rappresenta il più alto standard di mercato eh noi per esempio non compriamo mai dei lingotti non LBMA quindi non certificati automaticamente se hai comprato un lingotto non LBMA potreste avere molta più fatica a rivenderlo a un certo momento quindi è veramente importante eh che differenza c'è fra Gold Avenue e Coinvest Coininvest eh eh correggo se volete andare a vedere alla fine sono i nostri concorrenti fanno un ottimo lavoro penso che hanno un buon servizio eh la grossa differenza è che noi ci concentriamo veramente su tutto l'aspetto l'ecosistema eh anche digitale quindi che vi permette di gestire i vostri averi stoccarli a nove mila fino a nove mila cinquecento euro gratuitamente rivenderli senza commissioni eh avere i certificati automatici quindi veramente tutto l'ecosistema digitale noi siamo tech driven quindi ci concentriamo veramente sull'aspetto l'esperienza utilizzatore loro sono veramente dei venditori all'ingrosso di monete d'oro e lingotti d'oro vuol dire che voi comprate ricevete finita lì chi si è visto che si è visto noi cerchiamo veramente di avere un ecosistema che permetta a tutti di gestire facilmente i vostri averi perché la realtà cosa è che quando ricevete a casa l'oro o vi tocca sotterrarlo nasconderlo quando volete rivenderlo e dovete andare in una boutique di dubbia trasparenza che vi prenderanno delle commissioni importanti e vi è tutto il rischio che qualcuno ve le rubi quindi ci sono tutti questi questi fattori qui che noi abbiamo cercato di risolvere mettendo a disposizione gold avenue e a oggi posso anche dirlo in modo molto trasparente più di 80 per cento dei nostri clienti preferisce utilizzare la soluzione di stoccaggio piuttosto che farseli inviare non so se con invest offre lo stoccaggio almeno non mi ricordo se è nelle loro possibilità però chiaramente la loro grande maggioranza di richieste è su spedizione Enrico buonasera una richiesta potete se possibile rifornire lingotti in argento da 50 grammi grazie allora il 50 grammi le dico già o ti dico già che non è previsto nei prossimi mesi anche come detto prima la raffineria sta andando a pieno regime ci stiamo concentrando sui prodotti che hanno più richiesta e che funzionano meglio per i nostri clienti ed è stata già una vera lotta per essere oneste avere un oncia lady fortuna in argento e i 100 grammi le di fortuna in argento di nuovo sono prodotti che per diversi mesi non erano disponibili sulla nostra piattaforma abbiamo veramente insistito per allocare delle risorse in modo di poter offrire questi questi due prodotti qui quindi 50 grammi non per il momento magari in futuro ma di nuovo ci concentriamo su su prodotti più specifici e rispondo l'ultima domanda di fabio perché ridendo e scherzando qui sono già passati 30 minuti comunque vi ringrazio in anticipo per le vostre domande non dimenticatevi di iscrivervi al canale youtube in modo che tutte le volte che facciamo il nostro live ricevete una notifica sappiate che facciamo una volta in francese in italiano in inglese quindi cerchiamo di alternare le lingue prima o poi anche in tedesco ma probabilmente non sarò io perché il mio tedesco è un po limitato ma almeno una volta ogni due tre settimane riusciamo a fare questo q a e fabio chiede come ultima domanda al momento è meglio oro argento ma non si dice sempre che l'argento è l'oro in on steroid quindi sotto steroidi normalmente l'argento è più volatile quindi se pensi che l'oro si apprezzerà nei prossimi mesi è possibile che l'argento si apprezzerà di più nei prossimi mesi stesso modo anche vale verso il basso se l'oro pensi che perda 1 per cento l'argento può darsi che perde qualcosa in più quindi diciamo è dell'oro un po più speculativo l'argento mentre l'oro e serve veramente per sicuri per assicurare un po il tuo il tuo patrimonio l'argento ti permette di di essere un po più più speculatore e giocare un po di più voilà spero aver risposto la maggior parte delle vostre domande comunque grazie mille per per la vostra presenza e per aver animato anche da parte vostra questa serata vi auguro un'eccellente serata e vi ridico tra due o tre settimane in ogni modo se siete abbonati alle nostre newsletter sarete senz'altro informati grazie mille e buona serata ciao a tutti